Sì, ho detto già dopo la gara che da quando è tornato in nazionale che ha fatto un passo avanti importante di abbientamento che si è voluto un po' di tempo chiaramente un giocatore ancora molto giovane, vuol dire tanto spazio davanti di progresso di cose che può migliorare dal punto di vista tecnico sicuramente un po' fuori d'aria, magari nel proteggere da palone che stiamo lavorando anche su quello, ha già messo un po' di muscoli poi dentro aria è sua forza, quella è sua qualità poi c'è una bella generosità di attaccare spazi, di aprire la linea della difesa di essere al momento giusto nel boxe siamo contenti, siamo contenti questa gara qua e ora c'è da proseguire e crescere Allora, dopo il match, l'ai già detto, io penso che dopo il ritorno di la selezione il ha fatto veramente dei passi di géo in quanto riguarda su integrazione e su adaptazione c'è un giocatore ancora molto giovane quindi ovviamente c'è una grande marge di progresso io penso che dal punto di vista tecnico in dehorsi della superficie potrebbe apprendere a meglio protegere il ballone anche dal punto di vista fisico ha fatto un po' di muscoli ha già fatto un po' di masse muscolare c'è qualcuno che è generoso nella superficie c'è lì è il più forte io penso che ha la capacità di penetrare la difesa di se far trovare al momento in la superficie quindi siamo molto contenti e spero che continueremo come questo grazie a tutti